Un abbraccio per infondere fiducia nel prossimo, per riscoprire l'importanza del contatto. Il Comune di Petrasanta ha aderito alla giornata nazionale degli abbracci e in Piazza Duomo è stato un boom di braccia aperte, di strette affettuose tra adulti e bambini, tra amici e sconosciuti, tra giovani e pensionati, tra italiani e stranieri. L'iniziativa è stata accolta dall'amministrazione di Petrasanta con l'obiettivo di diffondere ottimismo e positività anche tra i residenti e i turisti della piccola Atene. Gente mai vista né conosciuta che ti abbraccia, tutti noi abbiamo bisogno di affetto, di abbraccio e di provare della fiducia verso il prossimo. È importante riscoprire il valore dell'umanità e dell'affetto del calore di una stretta. Abbracci tra conoscenti ma anche strani con i bambini che hanno reagito con una naturalezza inaspettata. I bambini sono quelli che danno più affetto degli altri, ti corrono contro. L'iniziativa è nata, questo è il terzo anno, da un gruppo teatrale e in tutte le piazze, lo stesso giorno, è la giornata degli abbracci, quindi del contatto, quindi dello stare insieme. L'ho proposta all'assessore se si poteva fare nella piazza di Petrasanta e lei è stata disponibilissima all'evento. Grazie.